abituati a leggere il vangelo del giorno oppure un passo che ci viene suggerito o che scegliamo sul momento non pensiamo quasi mai a guardare da quale punto esatto del vangelo proviene il brano che cosa è successo poco prima che cosa sta dicendo Gesù il caso del vangelo di oggi è emblematico solo pochi versetti sopra troviamo uno dei testi più consolatori del nuovo testamento se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualche cosa il padre mio che è nei cieli ve la concederà perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro Gesù ha appena concluso un discorso dirompente parla dei piccoli del regno dei cieli della misericordia infinita del padre ed ecco che arriva il solito pietro a cercare di riportare la fede a un precetto a un'indicazione a un limite segnato e definito che ci lasci tranquilli che ci permetta come se fosse possibile di fare la volontà del padre stando sotto il riparo delle nostre piccole certezze e Gesù risponde ancora una volta in maniera sconvolgente per chi vuole seguirlo non ci sono sentieri attrezzati strade facili o sicure a buon mercato il dono di dio all'uomo eccede la misura sempre solo l'intelligenza della fede può aiutarci a vedere l'amore infinito verso cui siamo chiamati quante volte ho il coraggio di chiedere a dio nella preghiera il dono dello spirito santo riesco ad affidarmi al signore nelle piccole o grandi scelte di ogni giorno buona giornata a tutti grazie a tutti